Beh, secondo me era gol il tiro di Cristian, perché era in linea col difensore e stavo in linea anche io con lui. Poi ha fatto le sue scelte, il guardaline e ce la prendiamo così. Veramente è stato un gran bel punto, ho tenuto all'ultimo minuto. Potevamo sicuramente puntare alla vittoria, però il destino ha avuto così. Io sono sicuro che possiamo puntare a salvarci molto, perché siamo una bella squadra e con i due rinforzi nuovi di Ivan e Antonio veramente possiamo dare tanto.